Qual è la tua testimonianza? La mia è una testimonianza da paziente. Io sono una paziente della dottoressa Renne, sono stata operata due volte da lei. Devo dire che nella malattia sono stata anche fortunata, perché ho trovato, oltre alla professionalità di questa donna, veramente una grande carica di umanità, che secondo me è un requisito indispensabile per un medico. Quindi in questa giornata sarà data voce anche alle pazienti, perché ad ogni intervento medico viene abbinata una testimonianza di una paziente. Questo è un aspetto importante, perché dà voce alle persone che hanno purtroppo dovuto subire questa esperienza. A tutto questo c'è da aggiungere che c'è necessità che si capisca anche il significato di questa attività che mettono in campo i medici per quanto riguarda questa patologia e nello stesso tempo la possibilità di fare questo lavoro prima che si arrivi a situazioni tragiche. Esatto, la prevenzione è importantissima, ma soprattutto è importante anche la cura, quindi trovare delle equip competenti e raccordate che possano seguire la paziente dal momento della diagnosi fino alla cura, all'asportazione, all'aspetto psicologico. Quindi tutti gli aspetti che comporta questa malattia. Devo dire a questo proposito che quando sono stata operata io, parliamo del 2011, già di fatto la breast unit c'era, nel senso che c'erano queste competenze mediche molto qualificate. Quindi io ho scelto di essere curata in Calabria e devo dire che non ho alcun rimpianto a riguardo, nel senso che sono stata seguita molto bene, sono stata fortunata, nel senso che sono stata evidentemente indirizzata bene verso questa struttura germaneto, parliamo del 2011, quindi di 11 anni fa. A tutt'oggi però, come diceva la dottoressa Renne, occorre fare un salto di qualità, nel senso che occorre giustamente raccordare le competenze, digitalizzare i dati, avere dei dati attendibili, e un controllo sull'attività, perché ogni paziente merita di essere curata adeguatamente. È una patologia che, come si diceva, riguarda purtroppo tantissime donne, forse la patologia tumorale più diffusa al mondo. Per cui quello che chiediamo in questa giornata del 25 è questo, che vengano riempite di contenuti queste breast unit e venga data la possibilità a tutte le donne calabresi di essere curate nella propria terra.